Musica Dice se vuoi andare a colazione da lui? Nelle nuove stanze di fila Piazza della Repubblica? Ma non se ne parla nemmeno, ma questo è pazzino, ma scusami! Pronto, pronto, se è una vale scrivia! Scusi se mi intrometto, eh! Lei si porta via mia moglievo, ho il diritto di intromettermi, no? Ecco bene, bene. Oh, senta, secondo me la cosa migliore da fare è questa, lei domanda viene qui, dorme qui, ci parliamo, sistemiamo le nostre cosette, sì, 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 così che poi domenica pomeriggio lei si porta via mia moglie incartata, imballata e anche mangiata, sì! Sì, mangiata, così cominciate a risparmiare, perché la vita coniugale costa! Eh già, lo so che lei ne sa qualcosa, mi ha avuto tre! Cosa dice? E' imbarazzante qui da noi, scusi, e' imbarazzante anche da lei a Milano, no? Sì? No, certo! Ma come no? Ne abbiamo già parlato, e' d'accordo! Ma sì che d'accordo, adesso gliela passo! Ecco! Eh sì, sono d'accordo! Ha visto che è d'accordo? Sì, 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 allora facciamo in questa maniera, sì! Lei viene domani mattina presto qui da noi, sa dove abita, no? Abitiamo qui a San Vittore! No, 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 no! Ma no, ma che c'è! No, lasci vedere! Ma scusi, mi lascia finire per cortesia! No, quella e' tutta un'altra cosa! E noi abitiamo a San Vittore Olona, in Brianza! Pensavo a finarsi in un calcio! Sì, sì, San Vittore Olona, certo! Ci sa arrivare, eh? Oh, va bene, va bene! Senta, quando arriva a San Vittore Olona, chiede del Club del Sicomoro! Sì, sì, si chiama così, Club del Sicomoro! No! Ma non ci sono i sicomori a San Vittore Olona, no, no! C'è qualche lattuga così, però, sa? Club del Sicomoro fa molto più scena, eh! Ah, bene, bene! Allora facciamo così, lei arriva al Club del Sicomoro verso le 10, le sta bene? Le 10? Va bene, va bene! Ah, volevo chiederle una informazione! Lei sa giocare a tennis? Sì! Va benissimo, va benissimo! Allora, appena arriva ci facciamo una bella partitella a tennis, così, tanto per bruciare qualche calorie! Poi beviamo qualcosa, così recuperiamo le calorie che ci siamo bruciati a tennis, sì! Eccetera, 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 da quelle cose lì! Allora, le va? Ma davvero, le va? Oh, gli va, capito? E allora, se siamo d'accordo, ci vediamo domani! Buonanotte, se eravate scritta, buonanotte! Ma come siamo civili!